Ad otto anni dal crollo arrivano 6 milioni e mezzo di euro per il rifacimento e il potenziamento del muro di sfioro della diga di Montedoglio che verrà completamente ricostruito. Il dottore Emilio Gatto, direttore generale del Ministero delle Politiche Alimentari, Forestali e del Turismo, ha infatti firmato il decreto con il quale ha stanziato 6 milioni e 520 mila euro per l'intervento. A renderlo noto sono stati l'assessore della Regione Umbria all'Agricoltura, Fernanda Cecchini, il presidente dell'ente Acque Umbre Toscane, Domenico Caprini, che hanno espresso soddisfazione per il decreto spiegando che si tratta di un intervento prioritario e di rilevanza fondamentale per riportare la diga alla sua piena funzionalità. L'intervento di ripristino comporterà inoltre anche il miglioramento e l'adeguamento ai fini antisismici del muro in cui si è verificato il cedimento, come prevede il progetto esecutivo, approvato dalla Direzione Generale Dighe e ora anche dal Ministero. Era il 29 dicembre del 2010 quando vennero giù tre conci della diga, provocando la fuoriuscita di un'ingente quantità di acqua che spaventò, e non poco, l'intera Valtiberina.